il tempo che ci vuole, ci vuole, non ce la facciamo, lui è il cavolo indietro, ma giusto? io non la potevo fare questa costruzione in piedra, il sindaco di allora disse che c'era perché vedi la pietra è uguale a quella delle 400, ma c'era o non c'era? quindi invitai poi Manuel Alcuri quello che fece, che fece? si può dire? no, si può dire grazie